Buonasera, io sono contento di essere l'ultimo a chiudere perché così mi risparmio tutto un discorso che hanno già fatto i colleghi e che io condivido pienamente. Diciamo che la prima metà del tavolo mi trova completamente consenziente perché io l'ho già anche dichiarato prima nella Hall, mi hanno intervistato per il sito della Regione sul tema del convegno e io l'ho detto prima che cominciasse, la mia preoccupazione è la qualità dell'informazione. Come diceva giustamente Sposito, il web secondo me è soltanto uno strumento, non è il fine, il fine è raccontare delle cose sensate, verificate, serie, con della sostanza dietro, tutto il resto è marketing, rispettabilissimo. I soldi a noi sono venuti a mancare come a tutti gli altri con la pubblicità in questi ultimi anni, per cui figuriamoci se sono io quello che sputa sul marketing o sulla pubblicità. Il problema è che le cose devono continuare a essere separate, non mescolare i pubblici redazionali con l'informazione, che continuano ad essere due cose diverse, web, non web, ma non c'è storia. Io come denunzio faccio giornalista da 40 anni, io tra l'altro ho anche tre ruoli, nel senso che io faccio il direttore di questo bisettimanale che esce, come diceva il moderatore, nell'area torinese, dalla collina ma anche nel primo ostigiano, copre tutta la fascia est-sud-est di Torino. C'era fino allo scorso anno un'altra pubblicazione che copriva la zona restante tra Moncaglieri e Nichelino, quindi il sud dell'area metropolitana. Di questo giornale che esce dal 1945, prima ancora che venissero istituzionalizzati i tribunali, nel senso dei registri dei tribunali, i primi numeri sono usciti con l'autorizzazione del comandante alleato che in quel momento controllava la zona. E la terza veste, che lo dico qua perché c'è un motivo, io sono il vicepresidente dell'associazione della Fipeg che ha organizzato questo incontro. E lo dico perché devo sventolare questa bandiera, in quanto i giornali della Fipeg, secondo me, sono, adesso dire, gli unici, non si può mai essere assoluti perché non va bene in nessuna occasione. Però il fatto che la Fipeg esista con 50 testate, 60 testate associate a quelle che sono, che della Fipeg facciano parte solo certi giornali e non altri, ha un ben preciso significato. Perché la Fipeg accetta nel suo interno soltanto dei periodici che abbiano una struttura consolidata, magari piccolissima, ma consolidata, gente seria che paga gli stipendi ai grafici come giornalisti. E' da qua che si parte a fare il giornalismo e a fare l'informazione e quella locale come tutte le altre. Quindi io non ho nessuna remora a dire che l'importante è l'attendibilità delle notizie, l'importante è svolgere un vero lavoro giornalistico. Ecco, io, se vogliamo metterla sul web, ti dico che preferisco un sito, vetrina dei nostri giornali, quello che tu dicevi non serve a niente, giustamente, no? Perché è il minimo standard passabile, io lo preferisco a quei siti che si spacciano come siti di notizie, in realtà di notizie non danno nulla. Che si dicano quotidiani, che poi sono tutti quotidiani, si capisce perché basta aggiungere un comunicato stampa un giorno, uno al giorno, diventi quotidiano. Non ha nessun senso mettere questi siti alla stregua di siti giornalistici. Proprio non c'è storia. E guarda caso, quello che ha dei contenuti, appunto, il più squallido sito, vetrina, delle testate associate alla FIPAC, è certamente meglio del più bel sito di notizie che dà delle notizie che in realtà non sono delle notizie, ma sono dei comunicati stampa, dei carabinieri piuttosto che della FIAT. E' questo, no? E do pienamente ragione, dico quindi a tutta questa fascia del tavolo, diciamo, da esposizione là. Contraddico in pieno quello che dice Denuzio, di cui pur stimo il lavoro, perché so che lui è un bravissimo giornalista e sa qual è la notizia, ha il senso della notizia, sa quali sono le cose da valorizzare, capisce benissimo. Per esempio, hai fatto dell'incidente stradale, perfetto. Difatti la stampa non capisce questo tipo di cose e lui le capisce. Però io non concordo assolutamente su questo tipo di sviluppo del lavoro, del mestiere. Non è lì il futuro del giornale locale, lì è il futuro del marketing, siamo d'accordo. Se vogliamo soltanto pensare a far soldi in qualche maniera, a trovare dei contatti, a dire che c'è un milione di amici, questi amici di Facebook, non si sa che cosa siano, no? Tutti un milione di amici, in realtà non conoscono neanche il portiere del loro condominio. Questo che secondo me va sottolineato. Quindi io ho detto tutto quello che dovevo dire, finisco solo ricordando quello che il presidente Policante ha messo come bandiera dell'associazione, no? Lui l'ha sintetizzato nei tre T, dove un T è senza altro questa tecnologia che noi dobbiamo guardare, ma gli altri T sono il territorio e la tradizione, non la tradizione ammuffita, vecchia, delle ragnatele, ma la tradizione di un giornalismo serio che sappia dare ancora delle notizie e non della fuffa. Grazie.